Vi è mai capitato di avere un vicino di casa che è una siepe che esce dalla vostra parte come in questa foto? Beh, se sì, guardate questo video. Ciao a tutti, sono Marco di Fanshop, Fanshop che è l'e-commerce di rete plastic. Quindi, introducevo nell'intro, classico problema tra vicini. Il mio vicino c'è la siepe, sto maledetto, non la taglia, la lascia crescere troppo per incuria, per pigrizia. Mi esce dalla mia parte e mi dà fastidio e quindi cosa posso fare? Più di una volta mi è stato chiesto sicuramente se c'era una rete specifica, quale poteva essere una soluzione. Io vi do ora quella che è la mia opinione in base alla nostra esperienza, corredata anche da un po' di foto abbastanza interessanti. La soluzione di mettere una rete è una valida alternativa, ma le reti per antonomasie hanno del ferro o della plastica e tanto buco, quindi la pianta ci va a nozze. Sicuramente andare a valutare una rete molto molto stretta, molto fitta, ne esistono in commercio anche reti in plastico, ma è molto molto fitte se non volete coprirvi totalmente. Ma ovviamente, ovviamente, più andiamo a infittire questa rete, più creiamo una barriera, più eviteremo che la siepe possa passare dall'altra parte. Guardate questa immagine, questa immagine l'ho scattata sul serio davanti alla nostra confine di proprietà nostro, pronta e strada. Anni fa avevamo messo un ombreggiante normalissimo, che si chiama soleado in white, ed è l'entrata di gamma degli ombreggianti, non è nulla di particolare. L'abbiamo applicato sulla nostra recensione, avevamo anche noi all'interno una siepe dentro, appunto, che crescendo negli anni ha fatto uscire quella fogliolina. Come vedete, cosa è successo? È passata tra le maglie, le fibre, i filamenti, diciamo così, della rete ombreggiante, piano piano, prima una fogliolina, poi due, poi il rametto per Ramona, e se la lasciassimo andare, crea un'altra siepe dall'altra parte. Quindi abbiamo risolto il problema? In parte sì, in parte no, ma in parte sì. Ma tenete presente una cosa, lo ripeto, è un ombreggiante da pochi euro a metro quadro, e ripeto, l'entrata di gamma, e non nasce con quell'obiettivo, non è nato per non far passare le siepe, nessuno l'ha mai detto, siamo noi che lo stiamo pensando per... Immaginiamo se invece andassimo a mettere un ombreggiante come questo. Questo, ad esempio, è un ombreggiante che pesa due volte e mezzo, quello che vi ho fatto vedere prima, bianco, ha una maglia che è due volte e mezzo più fitto, sicuramente, anziché metterci dieci anni a venire fuori quel rametto lì, ce ne metterà molti di più, perché è una barriera già quasi a tutti gli effetti. Esageriamo? Andiamo a mettere un prodotto come questo invece, quindi una rete in plastica con un panno ombreggiante chiuso al 100%. Beh, signori, probabilmente abbiamo ancora risolto, ancora meglio il problema. Vi ho fatto vedere tre step, dal più semplice al prodotto un pochino più ricco, diciamo così, più pesante, ma ad ogni modo, ripeto, l'obiettivo l'avevamo già quasi raggiunto nel primo step. Cosa possiamo trarre da questo video? Possiamo trarre che sicuramente mi sentirò dire no, a me è passata, passerà, non va bene. E va bene, e lo sono anche d'accordo con voi, ve l'ho fatto vedere prima nella foto, è passata, passa. Ma sono delle idee, sono degli spunti, ma soprattutto dipenderà anche da che tipo di siepe ha il vostro vicino, non lo so, se è più o meno, insomma, nata, pensata per passare in mezzo alle reti. E poi, soprattutto, comunque, noi andando a applicare un telo, andremo comunque a togliere luce alla siepe in quella porzione. Quindi va da sé che in quella zona crescerà comunque meno. Ad ogni modo, io prima di chiudere il video vi dico, parlate prima col vicino, mettetevi d'accordo, fatelo alzare dal divano, tagliato la siepe, scherze parte, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e visitate i nostri siti che sono www.retteplastic.it e www.fanshop.eu per il nostro e-commerce. All'interno troverete quelle reti che vi ho fatto vedere, e però non vi vengo a tagliare la siepe, promesso.